CIGEP 2020 Siamo nello stand di Fabri 1905 in compagnia di Nicola Fabri, amministratore delegato della società che ci presenta le dolcissime novità di questa azienda, che ci ha abituato ogni anno, non voglio dire ogni giorno, ma ogni anno a tantissime cose buone. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo qua in un angolo dello stand in cui si parla dei dolci del mondo. Noi abbiamo creato un passaporto con le ricette tradizionali di ogni continente o ogni nazione più grande, quindi abbiamo la cheesecake americana, la egg tart cinese, sempre con la nostra marena come protagonista. Però come novità abbiamo un prodotto molto interessante che è una vera e propria novità nel settore. Abbiamo creato una pasta madre, il concetto di pasta madre è simile al lievito, il lievito madre è la base per tutti i dolci che hanno bisogno di una lievitazione. Noi abbiamo creato una pasta madre che ha il gusto dell'uovo, dello zucchero, della farina e che serve per trasformare in gelato ogni dolce. Io penso immediatamente ai dolci patronali o ai dolci tipici della tradizione italiana, la sfogliatella, il pasticciotto, la tenerina. Ecco, ci sono più di 8.000 comuni italiani, ci sono più di 8.000 dolci della tradizione e tutti questi possono essere trasformati in gelato usando la pasta madre che si chiama Nonna Rachele, in omaggio alla moglie del nostro fondatore, la mia bisnonna. La Fabri ci ha abituato anche alla marena, quando si parla di amarena Fabri non c'è amarena che non sia Fabri. La marena è diventata un'icona non solo della nostra azienda ma della produzione alimentare italiana. Nell'immaginario che collettivo la si associa proprio a Fabri. La si associa immediatamente a Fabri perché siamo quelli che l'hanno inventata e che da cento e passa anni, perché è stata creata da mia nonna Rachele nel 1915, la portiamo non solo nelle case degli italiani ma nelle case di molte civiltà nel mondo. Basti pensare che in Danimarca la penetrazione di amarena pro capite è il doppio di quella italiana. Quindi lei può pensare quale sia il risultato ottenuto da un prodotto totalmente italiano, ambasciatore della nostra qualità e della qualità del saper fare italiano nel mondo. Nuovi prodotti, che importanza ha la ricerca e le indagini di mercato nella individuazione di nuovi prodotti, di nuove realtà, di nuovi gelati? Dunque la maggiore fonte di ispirazione per noi non sono solo le indagini di mercato, ma sono le esperienze che noi abbiamo essendo presenti in più di cento paesi nel mondo. Ecco perché è nato questo passaporto. Noi siamo viaggiatori in termine figurativo come azienda di tutto il mondo e quindi da tutto il mondo assorbiamo esperienze, tradizioni, gusti, che poi trasformiamo con il saper fare italiano e riproponiamo ai consumatori sia in Italia che nel mondo. Quindi l'esperienza e la nostra squadra del reparto ricerca e sviluppo creano ogni anno, come diceva lei, una proposta diversa, una proposta innovativa, una proposta che incontri i gusti non solo dei consumatori presenti ma di quelli che verranno. Lei ci parlava di questo ricettario, un passaporto con le ricette da tutto il mondo. Ce ne parli un attimo? Come le dicevo prima, in ogni pagina c'è una nazione e c'è una regione e c'è una ricetta che corrisponde alla ricetta più famosa di quella regione. È la ricetta più famosa di quella realtà. È la realtà, quindi non so, il clafoutis francese, la Black Forest che è la torta più famosa tedesca. Addirittura siamo andati in Ungheria con il rigo Jansi, adesso non so neanche come pronunciarla, però sappiamo bene che ha una presenza originalmente di amarena. Quindi questo è il filo rosso, nel vero senso della parola, che collega tutte queste ricette, è la amarena, in questo caso la amarena Fabri. Quindi 1905-2020, stiamo parlando di 115 anni, no? C'è tempo per i festeggiamenti o è già ora di rimettersi al lavoro per le prossime novità? Noi di solito festeggiamo ogni 25 anni, quindi abbiamo ancora una decina d'anni di tempo per preparare i festeggiamenti prossimi, nelle nostre di diamante. Grazie mille dell'intervista e buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille.